Noi abbiamo anche negli anni passati concentrato la maggior parte delle manifestazioni sia turistiche che culturali nel periodo estivo, però il nostro obiettivo che perseguiamo costantemente è quello di destagionalizzare. Devo dire che ci sono anche altre associazioni nostuni che presentano periodicamente dei libri, però noi volevamo essere promotori come amministrazione in un periodo di relativa tranquillità. Si parte appunto dalla legalità, si passa all'economia, ai problemi di carattere ordinario purtroppo, che difficilmente si trattano, quale i pazienti in fin di vita, lo tratteremo con Marco Cappato, parleremo della Brexit, parleremo di diversità di generazioni con Walter Veltroni, delle donne, visti con gli occhi delle donne, con Tiziana Ferrario, quindi diciamo abbiamo una rassegna ricca di appuntamenti importanti. Se uscire di casa e andare a partecipare ad una manifestazione in cui si discuta di questi temi può essere un primo momento e allora dobbiamo cercare di chiamare tutti, di adunare, di chiamare tutti alle... diciamo sembra esagerato, ma purtroppo quando si parla di battaglia e di guerra il termine è adatto, chiamare tutti alle armi, quindi scendere e far capire che c'è una società civile che ha una sua forza perché poi i criminali di fronte a questa forza a volte indietreggiano. Grazie. 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 Grazie.